Per due anni si era assentata dal lavoro ufficialmente per assistere la madre invalida, convivente e in realtà gestiva un bed and breakfast. Condannata a tre anni con rito abbreviato per truffa aggravata ai danni dello Stato e a un risarcimento di 55 mila euro. Un'ex impiegata della procura di Verbania, classe 1957 GS e le sue iniziali, residente in provincia di Brindisi. Le indagini sono state svolte dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della procura, coordinati dal procuratore capo Olimpia Bossi. Nel giugno del 2017 erano emerse anomalie per una lunga assenza dal servizio dell'impiegata, tra luglio 2014 e giugno 2016, ufficialmente per assistere la madre invalida, convivente, tramite il congedo retribuito. Successivamente la donna aveva proseguito l'assenza dal servizio per oltre un anno, fino a dicembre 2017, per malattia. È emerso che non solo la madre non aveva convissuto continuamente con l'indagata per tutti e due gli anni del permesso retribuito, ma solo per brevi periodi, e che inoltre la donna, anche quando era assente per malattia, gestiva un bed and breakfast a Ostuni. Il danno, quantificato in 55 mila euro, si riferisce agli stipendi che sono stati ritenuti indebitamente percepiti. I carabinieri della sezione di polizia giudiziaria hanno collaborato con i militari della stazione di Arona, con attività tecniche e analizzando i messaggi sui social per pubblicizzare il bed and breakfast. Il 26 ottobre si è tenuta l'udienza davanti al GUP di Verbagna, con rito abbreviato. L'imputata è stata condannata alla pena di tre anni di reclusione e 800 euro di multa per truffa aggravata ai danni dello Stato, con conseguente ristoro per 55 mila euro, di cui 35 mila già versati. Per garantire la piena restituzione dell'importo stabilito è stata anche disposta la confisca per equivalente di un immobile di sua proprietà.